Il lupo che non amava il Natale C'era una volta un grosso lupo nero che non amava il Natale. Si chiamava lupo. A Natale c'erano troppe luci, troppe canzoni e troppe decorazioni. Davvero, questa festa gli faceva venire il mal di testa. E più dicembre si avvicinava, più lupo si corrucciava. Quel mattino, quando lupo si svegliò, fuori nel bosco era tutto bianco. Incantato, indossò vestiti caldi e uscì per fare una passeggiata. Yuhuu, lupo! Ciao amici, disse lupo scorgendo Mastro Gufo e Valentino Appollaiati in cima a un abete. Volete giocare a palle di neve con me? Ci dispiace, ma stiamo mettendo le ghirlande luminose per Natale. Ci aiuti? Non ci penso nemmeno, rispose lupo. Io odio il Natale. Più avanti lupo si fermò dal suo amico Giosuè, che stava scegliendo le decorazioni in salotto. Ciao Giosuè, disse lupo. Hai visto quanta neve? Vieni fuori a divertirti? Mi dispiace lupo, ma oggi decoro il mio albero di Natale. Vuoi aiutarmi? Non ci penso nemmeno, rispose lupo irritato. Io odio il Natale. E riprese la sua passeggiata. Lupo arrivò dal suo amico Luigione. Dalla cucina proveniva un profumo delizioso. Ciao Luigione, vieni a fare un pupazzo di neve con me? Mi dispiace lupo, ma non ho tempo. Sto preparando i biscotti di Natale alla cannella. Vuoi assaggiarli? Non ci penso nemmeno, rispose lupo. Io odio la cannella e soprattutto il Natale. Dopo un po', lupo bussò alla porta del suo amico Alfredo. Ciao Alfredo, vuoi fare una battaglia a palle di neve? Mi dispiace lupo, ma sto scrivendo la lettera a Babbo Natale. Devo imbucarla oggi. E tu? Hai già spedito la tua? Non ci penso nemmeno, rispose lupo. Io odio il Natale. E aggiunse borbottando. E comunque a me Babbo Natale non porta mai niente. Lupo andò poi da lupa. Lei almeno avrebbe avuto tempo per lui. Buongiorno lupa. Hai visto com'è bello il bosco oggi? Hai voglia di venire a passeggiare con me? Mi piacerebbe tantissimo, rispose lupa, ma devo preparare la cena per la vigilia di Natale domani sera. Sei invitato anche tu. A lupo saltò la mosca al naso. Il Natale, sempre Natale, io odio il Natale. Ma perché odio il Natale? Chiese lupa, molto stupita. A Natale ci sono le stelle, ci si ritrova tutti insieme intorno alla bete, si mangiano cose buone. Natale è così bello? Per un po' lupo rimase zitto. Poi disse con una voce piccola piccola. Io non ho mai festeggiato il Natale. Lupa rimase di stucco. Una ragione in più per aiutarmi a preparare la cena, disse alla fine. In due sarà molto più divertente. Fu così che lupo passò il pomeriggio con lupa. Lei gli mostrò come cucinare il tacchino di Natale e si divertirono molto a rompere le castagne per fare il ripieno. Come dolce fecero un enorme tronchetto di cioccolato. Quando tutto fu pronto era ormai sera. Ho passato un bellissimo pomeriggio, disse lupo, leccandosi le labbra. Ora sono il re del tacchino ripieno e del tronchetto al cioccolato. Mi è piaciuto molto preparare questa cena con te, rispose lupa. Grazie per l'aiuto. A domani. Arrivato a casa sua, lupo si fermò meravigliato. Oh, sul tetto della sua casa erano appese ghirlande che scintillavano nella notte. Era un incanto. Grazie Mastro Gufo, grazie Valentino, mormorò lupo. E sorridendo aprì la porta. Che sorpresa! Nel mezzo del suo salotto c'era un magnifico abete con un bigliettino di Giosuè. Ho decorato questo abete per te. Spero che ti piacerà. Sul caminetto posate alcune statuette e un bigliettino di lupa diceva. Ho scelto queste statuette per te. Te le ha portate la signorina Ieti. Baci dalla tua adorata lupa. In cucina lupo trovò una scatola di biscotti e un biglietto di luigione. Questi biscotti di Natale sono per lupo. Tranquillo, sono al cioccolato. C'erano anche candele accese qua e là. E un mucchio di legna già pronto nel caminetto. Se hai bisogno di aiuto per accendere il fuoco, chiamami. Edmondo, PS, basterà una scintilla. Il giorno dopo lupo si preparò con cura per la veglia della vigilia. Indossò il suo vestito più bello, si versò un po' di brillantini in testa, comprò fiori per lupa e piccole scatole di cioccolatini per ciascuno degli invitati. Quando lupo raggiunse i suoi amici per la cena disse Vi ringrazio amici, grazie a voi per la prima volta passo un meraviglioso Natale. E ora, buon appetito! Fu una serata piena di calore e tutti fecero molta fatica a congedarsi. Ci troviamo domani per giocare nella neve? Chiese lupo prima di andarsene. Sì, sì, risposero i suoi amici. Lupo non vide luigione che faceva l'occhiolino alla signorina Ieti e nemmeno gli altri che ridevano con aria un po' sciocca. Il giorno di Natale lupo si alzò presto. Immaginatevi la sorpresa quando vide che ai piedi del suo abete c'erano regali e questo bigliettino. Caro lupo, mi dispiace di essermi dimenticato di te per tanto tempo. Ma grazie ai tuoi amici che mi hanno scritto, quest'anno ti ho portato i doni, firmato Babbo Natale. Emozionato, lupo si precipitò sui pacchetti. Ce n'erano molti da scartare. Grazie Babbo Natale, mormorò lupo commosso. Poi corse a raggiungere i suoi amici che lo aspettavano per la più grande battaglia di neve dell'anno. Fine Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.